Sì, sì. Allora, siamo qui, è appena terminata la festa dell'Associazione Polizia di Stato di Magenta. Siamo qui con Mariella, che è giovanissima, 23 anni, e hai cominciato giovanissima a fare la volontaria. Ho iniziato un annetto e mezzo fa, quasi due, e ho iniziato per puro caso, perché io prima ero in protezione civile. Protezione civile a Corbetta? Sempre a Corbetta, sì. E poi ho deciso, per puro caso, di passare in polizia, perché mi affascinava la figura della polizia. E quindi ho detto, perché non provare a entrare in un'associazione che mi potesse dare magari anche uno spiraglio con il futuro? Ma perché poi l'aspirazione a diventare... Io studio Scienze del Servizio Sociale, quindi è tutta un'altra strada, però ho sempre avuto la passione per la polizia e carabiniere, per le forze armate. Ah, bene, bene. E adesso ci saranno anche dei volontari operativi qua nell'Associazione Polizia di Stato. Te di cosa vorresti occupare? Sì, io ogni tanto faccio i servizi, e adesso ovviamente avendo preso le lezioni all'università, dovevo un po' conciliare entrambe le cose, però quando riesco faccio i servizi, soprattutto durante il periodo... Io sono entrata appunto in polizia durante il periodo Covid, quindi 2020 circa, e ho fatto tanti servizi all'ospedale militare di Baggio, e da lì proprio è partita la mia passione, proprio nel periodo Covid, stare a contatto con le persone. Molto bello, siete tante le ragazze... No. Sono poche ovviamente. Poi ci sono altri due, un ragazzo della mia età e un'altra persona un po' più giovane, però diciamo io sono la più piccolina. Va bene, comunque ce ne sono, quindi da Mariella potrebbero arrivare altre. Speriamo altre persone. Grazie mille, Mariella. Grazie a te.